Ciao ragazze, oggi vi faccio il video sulle mie palette MAC aggiornate avevo fatto un video nel 2009 in cui vi facevo vedere tutti i miei ombretti MAC ma da allora potete immaginare ne ho presi diversi altri infatti in tantissime mi avete chiesto di farvi vedere le mie palette MAC aggiornate prima però voglio fare un piccolo disclaimer faccio questo video proprio perché mi è stato richiesto moltissime moltissime volte in più so che può essere molto utile vedere gli ombretti MAC in video in alta qualità perché purtroppo dal sito non si capiscono i colori degli ombretti non si capiscono proprio le colorazioni dal loro sito infatti spero che lo cambieranno perché veramente vedere gli ombretti vedere le colorazioni dal sito non si capisce niente io stessa prima di comprare un ombretto MAC vado sempre a cercare di vederlo nei video su YouTube proprio perché così si riesce veramente a capire la giusta colorazione dell'ombretto ma comunque a parte questo iniziamo con il video vi faccio vedere tutte le mie palette MAC appunto non vi farò vedere tutte 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 le mie palette perché comunque tantissime cioè tantissime insomma qualcuna le avete già vista nel video che avevo fatto appunto nel 2009 per chi non l'aveste visto vi metterò qui un fumetto che vi porta direttamente a quel video quella è la prima parte delle mie palette e queste sono le palette gli ombretti che ho preso nel frattempo questa è la palette dei rosa e viola eccola qua alcuni come potete vedere sono dei campioncini pressati quindi si vede la cialda perché il prodotto era pochissimo però anche i pigmenti li ho preso tutti nelle palette perché mi è molto più semplice poi utilizzarli sono meno svolazzanti allora iniziamo da qui questo è Lovely Lily pigmento pressato Shimmer Time pigmento pressato Creme de Violet Satellite Dreams Nocturneau Cheers My Dear pigmento pressato Sand & Sun questo faceva parte di un kit di pigmenti che si chiamava Summer Stash quindi non so proprio il nome di questo stessa cosa per quest'altro entrambi facevano parte del set Summer Stash dell'anno scorso poi c'è Violet pigmento pressato anche questi due sono dei pigmenti pressati poi questo è un colore che avevo depottato da una palette e non mi ricordo assolutamente il nome poi c'è Free To Be un altro di quella palette era un quad da 4 quindi ce ne saranno altri due di colori di cui non so il nome anche questo non è identificato poi questo è uno dei miei preferiti Parfait Amour e poi questo pigmento pressato Brush & Bold allora poi c'è la palette degli azzurri blu verde di arancio non ho toccato le altre palette quindi le altre palette che avevate visto nel video del 2009 sono rimaste le stesse come vedete non ho messo gli adesivi con i nomi perché è probabile che cambierò ancora la sistemazione di queste palette comunque allora questo è Blue Calm Birds & Berries o Bird & Berries Spiritual Eyes pigmento pressato questo è veramente splendido Sweet & Punchy Rush Metal pigmento pressato questo è Deep Truth poi Acqua questo mi sembra sia un colore pro è splendido anche questo è bellissimo Humid poi questo è Sunny Spot che l'avevo un po' sfracassato quando ho depottato l'ombretto Sunny Spot poi questo è anche un pigmento pressato si chiama Jardin Air poi c'è Contrast bellissimo questo viola blu non sopevo se metterlo nella palette blu o viola ma visto che avevo uno spazio qui l'ho messo qua Contrast Acqua Disia poi questo è il pigmento pressato Blue Brown che è meraviglioso Chrome Yellow e Expensive Pink anche se è di pink ha ben poco mi sembra più un arancio però questa palette come potete vedere non è ancora completa e qui ho messo qualche highlighter e qualche ombretto grigio nero allora questo è Silver Fog è un pigmento pressato poi c'è Crystal Balf Grey anche questo faceva parte dello Summer Stash è un pigmento pressato sono i Crush Metallic Pigments pressati quindi se volevate sapere se potete pressare anche quelli si si pressano tranquillamente anche quelli sono molto metallizzati sono molto belli poi Arctic Grey Pink Opal e questo è un altro ombretto non identificato che faceva parte di quel quad poi Soft Wash Grey pigmento pressato Quick Frost pigmento pressato e quest'altro è un ombretto non identificato che faceva sempre parte di quel quad ok questa è un'altra palette che come vedete non è completa per questo che vi dicevo che forse cambierò i colori degli ombretti non so se saranno sempre non so se è quella sistemazione definitiva comunque qui ho messo i marroni bronzo qualche colore un po' più neutro The Family Crest pigmento pressato Rump questo me l'ha consigliato la Makeup Artist della MAC è un colore splendido che fa risaltare molto gli occhi chiari poi c'è Movement Pigment Smut Museum Bronze Pigmento pressato Copperized Pigmento pressato Tempting Summer Stash Pigmento pressato anche questo faceva parte dello Summer Stash poi Sunny Base Pigmento pressato Shale è Star Violet e poi c'è quest'altra palette che è una palette da blush i blush che ho sono tre in questa palette e qui visto che le cialde erano vuote ho messo tre ombretti depottati che sono più grandi rispetto a quelli normali allora questo è un Mega Metal Shadow si chiama Unflappable poi c'è il blush Flare Power poi il blush Pinto Peach poi questo è un ombretto della collezione natalizia dell'anno scorso e si chiama Glamour Castle poi un altro Mega Metal Shadow Noir Plum e poi questo è un blush di cui non ricordo il nome credo si chiami The Perfect Cheek però non riesco proprio a toglierlo per vedere il nome che ci ho appiccicato sotto evidentemente la colla insomma ha fatto un po' un disastro quindi non riesco a toglierlo ma appunto penso sia anzi sono quasi sicura che sia The Perfect Cheek ok ragazzi queste erano le mie palette mecca giornate vi metterò comunque tutti i nomi degli ombretti che vi ho elencato che vi ho fatto vedere nel box informazioni così se volete fare un ordine se volete acquistarli sapete il nome esatto e niente ragazzi io adesso vi saluto vado all'IKEA così posso finalmente prendere i mobiletti nuovi e riorganizzare tutte le mie impostazioni e make up che come vi dicevo in questo momento è un disastro totale e niente un bacione ragazze ciao